si accede l'area supervisione attraverso un click lungo andiamo a vedere la prima funzione dell'area supervisione ovvero gestisci attività attraverso le quali posso creare e modificare le attività con il segno più in alto a destra posso andare a creare un'attività personalizzata in questo caso preparare la pasta asciutta clicco gestisci immagine con la quale potrò scattare una foto o scegliere un'immagine dalla galleria in questo caso sceglierò dalla galleria del mio telefono con la spunta poi in alto a destra andrò a salvare la mia attività che andrà a definirsi in fondo alle attività già preesistenti con un facile sistema di scorrimento potrò spostarla dove più desidero cliccando la freccetta a destra posso andare a creare tutte le situazioni che definiscono quell'attività in questo caso la prima situazione sarà prendere una pentola salvo con la spunta in alto a destra con il sistema più andrò a definire un'ulteriore sottocategoria quindi riempire la pentola di acqua fino a metà posso anche in questo momento gestire l'immagine fare una foto scegliere dalla galleria salvo con il segnale di spunta inserisco un ulteriore sottazione accendere il fuoco salvo anche in questo caso tutte le sotto attività andranno a salvarsi una dietro l'altra in riferimento al mio inserimento posso andare a spostarle con un sistema di scorrimento con un clic lungo posso modificare la mia attività eliminarla o annullare l'azione posso facilitare la ricerca delle mie attività attraverso la stringa di ricerca in cui posso inserire delle parole o delle lettere affinché mi faciliti la ricerca delle attività stesse andiamo a definire adesso una nuova attività con il più in alto a destra si aprirà la schermata nuova attività andrò inserire il nome lavai i denti gestisci immagine in questo caso scelgo l'immagine dalla galleria presente del telefono una volta scelta l'immagine con la spunta in alto a destra salvo i miei dati l'attività andrà a definirsi sotto tutte le attività preesistenti clicco la freccia a destra con il più vado a definire le situazioni in questo caso prendere lo spazzolino spunta in alto a destra salvo i miei dati in più andrà inserire una nuova situazione prendere il tubetto di dentifricio salvo i miei dati con un più inserisco una nuova situazione aprire il tappo del tubetto e mettere un po' di dentifricio sullo spazzolino spunta in alto a destra per salvare in alto a destra il più per inserire una nuova situazione aprire il rubinetto salvo inserisco una nuova situazione bagnare con acqua lo spazzolino con il dentifricio anche in questo caso posso andare a gestire le immagini inserire le foto personalizzate di riferimento inserisco una nuova situazione che è spazzolare i denti in questo caso posso andare ad inserire in questo caso un timer cliccando sull'orologio e il timer può essere definito da eseguire entro o tra un intervallo di tempo in questo caso andrò a definirlo tra un intervallo di tempo posso definire le ore, i minuti, i secondi in questo caso voglio che l'azione venga fatta da un minimo di 15 secondi a un massimo di 30